Risveglio in bianco per Salerno e altri comuni della provincia, interessati dal vortice artico che ha portato temperature al di sotto dello zero anche sulle coste. Sotto controllo alla situazione in centro cittadino, più critica invece nei rioni collinari. Il territorio è stato monitorato dai volontari della protezione civile comunale che hanno pattugliato le frazioni alte. Neve anche sui Picentini e nel Vallo di Diano, dove si sono registrati i disagi maggiori dal punto di vista della viabilità. A Fisciano il sindaco Sessa ha disposto con apposita ordinanza la chiusura dell'università e delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Per oggi prevista un'ulteriore diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori minimi.